Tiziana e quattro amici convocati in procura saranno interrogati come testimoni i quattro giovani che furono querelati per diffamazione dalla trentenna napoletana, suicida per i video hard. Lei li accusò di aver diffuso le immagini sul web. Logistica del rio, recuperare i ritardi. Il ministro dei trasporti del governo Renzi in visita all'interporto di Nola. Se avessimo la logistica dei tedeschi, ha detto, saremmo la prima manifattura in Europa e non la seconda. Corruzione, lite Cantone De Luca. Il presidente dell'anticorruzione attacca il governatore, stanco di questi slogan sul nulla, ma il presidente della regione smorza il caso, piena collaborazione con Cantone sugli appalti. 19 anni, muore per un malore, sciocca a Castellabate, dolore e incredulità nel comune cilentano dove una ragazza nella notte è morta per infarto. Tiziana Lembo abitava nella frazione di Licosa, sconvolta l'intera comunità. Le città più verdi non sono in campagna. Si salva solo Benevento nella classifica sull'ecosistema urbano stilata come di consueto dal suole 24 ore. Caserta sul fondo, male Napoli per la differenziata. Arretrano Avellino e Salerno. Mastella non porta il dissesto in aula. Il comune di Benevento è a un passo dal default, ma non sarà in consiglio comunale a dichiararlo. Ad Avellino, Foti annuncia. Ok, dalla regione per i fondi. Ripartono i lavori di Tunnel, Bonatti e Piazza Libertà. Buonasera dal nostro Tg in apertura ancora il caso Cantone. Sono stati convocati in procura per essere interrogati come testimoni i quattro giovani che furono querelati per diffamazione da Tiziana Cantone che li indicò inizialmente come responsabili nella diffusione dei video hard che nei mesi successivi avrebbe poi indotto al suicidio la trentenne napoletana. Forse tre sono stati già ascoltati nei giorni scorsi dal PM di Napoli, Alessandro Milita, mentre il quarto sarà interrogato nei prossimi giorni una volta tornato dall'estero. Vengono sentiti come testimoni assistiti con la presenza di un difensore essendo indagati in un procedimento connesso, quello per diffamazione per il quale la procura ha da poco chiesto l'archiviazione in quanto dopo aver presentato la querela Tiziana ritrattò le dichiarazioni. Il fascicolo è stato aperto per l'ipotesi di calunnia. I PM vorrebbero infatti accertare se Tiziana sia stata spinta ad accusare persone estranee ai fatti per coprire qualcuno. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Del Rio, visita al CIS Interporto di Nola. Con maggiori investimenti creeremo nuovi posti di lavoro. Il ruolo centrale delle infrastrutture e della logistica per il rilancio del mezzogiorno è il potenziamento dei collegamenti dell'Interporto di Nola. Questi gli argomenti in discussione nel corso della visita che il Ministro dei Trasporti, Graziano Del Rio, ha fatto questo pomeriggio presso il distretto CIS Interporto di Nola. Il Ministro è stato accolto dai vertici del CIS Interporto Campano che lo hanno accompagnato in una visita all'interno del distretto nolano dove sono insediate oltre mille aziende che operano nel campo della distribuzione della logistica e dei servizi occupando circa 9.000 addetti. Questo è il più grande interporto che abbiamo a disposizione da Livorno in giù quindi è davvero una realtà importantissima per il mezzogiorno e per tutta l'Italia. perdiamo almeno 12-13 miliardi all'anno nella mancanza di pensiero su come si spostano le merci e tutte le cose e quindi se recuperassimo questi soldi le nostre imprese ne avrebbero un vantaggio enorme e potremmo creare più posti di lavoro e dare più competitività al sistema italiano. Quindi gli interporti sono un punto chiave dello sviluppo economico dell'Italia. Il ministro del Rio si è poi espresso sull'istruttoria aperta dall'ANAC di Cantone sugli appalti per la costruzione della darsena di Levante al porto di Napoli. Con la nuova programmazione sono pochissimi invece i progetti strategici per potenziare davvero in termini veri la competitività del sistema del mezzogiorno e le inchieste che fanno pulizia e che combattono la corruzione sono tutte benvenute perché tutto va svolto nella piena legalità. Uno dei problemi del mancato super mezzogiorno è appunto la presenza della criminalità. Il presidente dell'ANAC, Raffaele Cantone, interviene sulle recenti esternazioni del presidente della regione Campania e dice sono stanco di questi slogan sul nulla. Vediamo. Per De Luca la lotta alla corruzione blocca l'Italia. Mi sono stancato di questi slogan basati sul nulla fuori le prove, ha detto Raffaele Cantone, presidente dell'ANAC, rispondendo ai giornalisti che gli ricordavano le parole del presidente della regione Campania che sabato aveva detto con l'idea di combattere la corruzione stiamo bloccando l'Italia. Io non so il presidente De Luca da che cosa ha preso questa informazione, non l'ho sentito, se lui ha ragione lo dimostrasse. Noi abbiamo dimostrato il contrario, diciamo, io mi sono scocciato di questi slogan di chi dice affermazioni che non sono basate sul nulla, fuori le prove. Cantone si è riferito anche al nuovo codice degli appalti, più volte criticato dallo stesso De Luca i codici fatti bene e vengono sistematicamente boicottati da chi dovrebbe applicarli. Ma chi dice che si blocca il paese, ricordo che finora l'Italia non bloccata ha prodotto opere inesistenti che sono durate anni e nemmeno sono state finite. Pronta la replica di De Luca rappresenta una regione impegnata a fondo in un lavoro di riordino e di moralizzazione rigorosa nell'ambito delle proprie responsabilità e competenze, afferma il governatore. Rappresenta una regione che ha voluto stipulare già dall'inizio un protocollo d'intesa con l'ANAC, impegnandosi a sottoporre a essa gli atti relativi alle materie ambientali e alle opere pubbliche. Ho detto e ribadisco con assoluta convinzione che la normativa che prevede a carico di dipendenti pubblici in conseguenza di una condanna in primo grado per abuso d'ufficio, l'automatico dimezzamento dello stipendio e il demanzionamento, ha creato un clima di paura e di fuga dalle responsabilità e questo, sottolinea De Luca, rischia di ritardare gravemente i passaggi decisionali di competenza della pubblica amministrazione. Tragedia a Castellabate in provincia di Salerno dove una ragazza di 19 anni è morta per infarto. Tiziana Lembo, questo il nome della vittima, abitava nella frazione di Licosa. Il malore è avvenuto nella notte, inutile purtroppo l'intervento del South di Santa Maria Castellabate e dell'unità rianimativa di Agropoli. sconvolta la famiglia e l'intera comunità che piange una ragazza che tutti ricordano solare e dolcissima. E adesso parliamo dello scandalo dei falsi incidenti sospesi giudice di pace, avvocati e medici nel napoletano. L'organizzazione lucrava sui danneggiamenti mai realmente avvenuti. Simone Tagli e Pariello. Misure di interdizione dall'esercizio della professione sono state disposte dalla magistratura romana nei confronti di un giudice di pace di Nola, tre avvocati, un perito ed un medico nell'ambito di un'inchiesta su truffe alle assicurazioni legate ad incidenti stradali inesistenti o con dinamiche diverse da quelle descritti nelle denunce. I provvedimenti sono stati emessi dal GIP Maddalena Cipriani su richiesta del procuratore aggiunto Paolo Ielo e del sostituto Laura Condemi. Gli accertamenti sono stati avviati a Nola e una prima tranche è già al centro di un articolato processo. A Roma è arrivata la parte, una ventina di sinistri che coinvolge i giudici di pace. Infatti, oltre al primo giudice, uno dei destinatari dell'interdizione disposto anche all'obbligo di presentazione, sono stati indagati altri quattro colleghi, tre in tutto gli avvocati per i quali è stata disposta la sospensione dalle attività. Analoga situazione anche per un perito stradale e per un medico. Ad un falso testimone invece è stato imposto l'obbligo di presentazione. L'inchiesta ha consentito di accertare come il sistema per truffare le assicurazioni fosse incentrato su falsi testimoni, certificazioni artefatte e la complicità dei giudici di pace. Oltre al primo giudice di pace, sono stati indagati nella capitale altri quattro colleghi. Per tre di essi, la procura aveva sollecitato l'emissione di misure di interdizione, ma il GIP ha ritenuto che non sussistano i presupposti. Due banditi armati sono entrati in azione a volto coperto intorno alle 17 nella gioielleria di Torrette di Mercogliano, Boccieri. I rapinatori sono entrati nel negozio di Via Nazionale ed hanno minacciato i titolari per farsi consegnare i gioielli e il denaro. Ma all'esterno del negozio c'era un testimone che ha notato la scena e ha chiamato la polizia. In pochi minuti sul posto sono arrivate le volanti che hanno messo in fuga i rapinatori, che fortunatamente non sono riusciti a portare via nulla. I banditi sono scappati in direzione autostrada ed ora è caccia ai malviventi. Ed ora il rapporto di lega ambiente sull'ecosistema urbano. Numeri complessivamente negativi per la campagna. Male Napoli e Caserta, Benevento, prima provincia perdifferenziata e migliore città del sud, perdono terreno a Vellino e Salerno. Le città più verdi sono piccole e al nord. Ben otto comuni del settentrione nella top ten della sostenibilità ambientale. Tira una brutta aria in Campania. Caserta si piazza al centunesimo posto, tra le ultime a livello nazionale. Solo un poco meglio Napoli, ottantaduesima. Appena sufficiente, Avellino al quarantaduesimo posto, seguita da Salerno, cinquantunesima. Mentre Benevento conquista la Palma per la miglior performance tra i capoluoghi campani con il venticinquesimo posto. È quanto emerge dalla ventitresima edizione di Ecosistema Urbano, la ricerca di lega ambiente e sole 24 ore, che fotografa il rendimento ambientale del paese. Napoli paga ancora una scarsa raccolta differenziata, al 25%, ancora distante dal rispetto degli standard fissati dalla normativa. Migliora di contro il trasporto pubblico, con 151 passeggeri trasportati annualmente per abitanti annui, ma ancora lontana dalle altre grandi metropoli e città turistiche d'Italia. Avellino scende di 13 posizioni, promossa sulla depurazione, scende la percentuale di differenziata al 34%. A Benevento la percentuale di differenziata raggiunge il 65,2%, migliore città del sud, unica tra le città campane ad avere anche un buon indice di ciclabilità. Salerno guadagna 16 posizioni, la differenziata si assesta al 64,1%, perdendo però la leadership regionale. Maglia nera della campagna caserta, penalizzata per il mancato invio delle informazioni sui dati della qualità dell'aria e consumi idrici, differenziata al 47,8%. Nel complesso, commenta Michele Buonomo, presidente di Lega Ambiente Campania, il rapporto evidenzia con chiarezza che siamo in presenza di città apatiche, statiche e pigre, ma a questo dato fa da contraltare una rinnovata vitalità sociale, un crescente numero di progetti partecipati, di reti associative e di condomini green. Far West, in centro a Napoli, notte di follia, feriti tre poliziotti, un posto di blocco sfondato e coppia in fuga e caccia all'uomo, indaga la polizia che analizza ora il circuito di videosorveglianza. Vediamo il servizio. Tre agenti di polizia feriti e questo il bilancio di un'assurda notte di follia a Napoli, tra fuga e corso in moto tra i dedali del centro antico. Era già successo lo scorso 16 ottobre, quando un ragazzo a bordo di uno scooter aveva travolto un poliziotto che gli aveva intimato l'alta a Piazza Bellini. Stesso copione, ma stavolta è successo a due passi da Porta Capuana, dove ad un posto di blocco era stato imposto l'alt ad una coppia arrivata a tutta velocità a bordo di un'onda SH con un uomo e una donna, entrambi senza casco. Come da procedura, l'agente ha alzato la paletta per bloccarli. Per tutta risposta il conducente è accelerato, investendo l'agente, finito al cardarelli, con lesioni a testa e corpo. È scattato l'allarme via radio con una vera e propria caccia ai fuggitivi. Intanto solo poco prima si era scatenato un altro parapiglia che ha costretto diverse volanti e motociclisti ad un super lavoro per catturare un algerino armato di pistola che si aggirava tra le case nuove. Sulle tracce dei fuggitivi intanto si sono messi falchi che li hanno tallonati fino a Via Foria, ma bloccarli involontariamente è stata una ragazza di 18 anni che uscendo da una traversa a bordo della sua minicar ha sbarrato la strada ai due falchi. Un impatto inevitabile. Sono rimasti feriti sia la ragazza che i due poliziotti. Intanto i fuggitivi sono spariti nel nulla ed è ancora caccia all'uomo. Una folla commossa ha detto addio a Giuseppe De Prisco, il 74enne di Nocera Inferiore, travolto come un birillo da un'auto pirata che era sabato scorso insieme a due carabinieri che erano sul posto. Ancora gravi le condizioni di uno dei due militari. Il killer resta invece piantonato in ospedale mentre il Comune ha deciso di costituirsi parte civile. Ma vediamo il servizio di Rossella Strianese. Familiari, amici e molti esponenti dell'amministrazione comunale di Nocera Inferiore hanno reso l'estremo saluto a Giuseppe De Prisco, il fabbro 74enne che sabato ha tragicamente perso la vita dopo essere stato investito da un'auto piombata a tutta velocità sui veicoli fermi. Un lungo corteo ha accompagnato il feretro del pensionato dalla casa di via di Florio fino alla chiesa. Giuseppe era sceso in strada dopo un tamponamento per controllare cosa fosse accaduto alla sua multipla parcheggiata in zona. Accanto a lui il figlio Giovanni e due carabinieri in pattuglia chiamati a fare i rilievi. Pochi secondi di follia e la vita di quest'uomo buono e amato da tutti è stata inesorabilmente spezzata. Al volante dell'auto killer, una lancia Ypsilon, un noto barista della cittadina dell'agro, Biaggio Annunziata, 31 anni di San Marzano sul Sarno, che ha falciato in una sola volta cinque persone, uccidendone una. L'uomo, anche egli ferito, resta piantonato in ospedale e restano molto critiche le condizioni di Giovanni, il figlio cinquantenne di Giuseppe, che è stato sottoposto ad un delicato intervento neurochirurgico all'ospedale Umberto I di Nocera, dove si trova ricoverato per ferite meno gravi anche uno dei carabinieri travolti e una donna di 47 anni, coinvolta nell'impatto. Intanto, la giunta di Manlio Torquato ha deciso di costituirsi parte civile nel processo a carico del barista a testimoniare la vicinanza del comune alla famiglia devastata da questo incidente. Il barista si era messo alla guida in stato di ebrezza, dai rilievi infatti è emerso, che nel sangue aveva un tasso alcolico quattro volte superiore al limite di legge. Il comune di Benevento è a un passo dal dissesto, ma probabilmente la dichiarazione di default non arriverà dal Consiglio Comunale. Mastella infatti spiega sarebbe assurdo che i miei consiglieri si rendessero corresponsabili di un disastro in cui non c'entrano. Vediamo. Il comune di Benevento marcia spedito verso il baratro finanziario e noto, ma probabilmente non sarà il Consiglio Comunale a dichiarare il dissesto finanziario. In tal modo, secondo il sindaco Clemente Mastella, intervenuto sull'argomento, si creerebbe una sorta di corresponsabilità dell'attuale amministrazione con chi ha creato il dissesto. Io non ho mai detto di quello che accadrà davvero, cioè ipotizzato quello che può accadere, cioè registrando i numeri. Se queste sono le condizioni finanziarie, purtroppo è una condizione di drammaticità. Voglio tranquillizzare l'opinione pubblica che drammaticità non significa per loro chissà che cosa arriva, perché già il comune di Benevento e i cittadini di Benevento erano tartassati da tasse elevatissime, quindi non si cambia. Purtroppo non si regredisce. Questo è l'unico elemento di difficoltà, ma certamente non aumenteranno le tasse. Dopo dieci anni vuol dire che o non si è lavorato bene in questi dieci anni oppure esistono condizioni organizzative e occorre fare una due diligenza dell'apparato amministrativo perché significa che eventualmente anche Napoli in buona parte finirebbe per impattare una realtà difficile e complicata di cui a dieci anni saremo di nuovo nell'ennesimo di sesto. Cioè c'è qualcosa che non va. Se dieci anni fa un comune che da dieci anni ha fatto il sesto e ritorna lì stesso c'è qualcosa che non va. Che vuole che con 101 milioni mi piglio la responsabilità o i miei consiglieri votano una cosa corresponsabilizzandosi con le spese che hanno fatto gli altri o che sono derivate agli altri. Mi pare una follia. Fondi più Europa ad Avellino fumata bianca dalla regione al comune 17 milioni per chiudere i cantieri. Intanto stasera riapre il teatro Gesualdo. Vediamo il servizio. Sbloccati i fondi più Europa per il comune di Avellino questa mattina in regione a Napoli è arrivata la fumata bianca dall'incontro tra l'amministrazione comunale rappresentata dal sindaco Foti e dagli assessori preziosi Tomassone Giannacone e il vice governatore Fulvio Bonavitacola che ha segnato lo sblocco di 17 milioni di euro necessari per il completamento delle opere pubbliche ancora in cantiere con la firma del verbale tecnico di condivisione del piano finanziario. Dal tunnel al completamento di Piazza Libertà passando per la Bonatti e il riammaiamento della stessa Piazza Libertà a Corso Vittorio Emanuele. In arrivo anche 400 mila euro che saranno destinati al restyling del Salotto Buono e alla sostituzione del suo arredo urbano. Nei prossimi giorni il governatore De Luca firmerà il decreto per lo stanziamento dei fondi. Secondo il sindaco Foti i lavori dovrebbero riprendere al massimo entro 20 giorni. Foti a margine si è soffermato anche sul programma di eventi per il Natale e sul Teatro Gesualdo. Grazie ai fondi Ex Post contiamo di inserire nel cartellone natalizio tante iniziative per i bambini ma anche e soprattutto a sostegno del commercio. E intanto stasera riapre il Teatro Cittadino dopo cinque mesi di inattività tra polemiche e buchi in bilancio che hanno portato alle dimissioni del CDA. Marco Paolini aprirà la rassegna Teatro Civile mettendo in scena il suo numero primo. Per noi questo è motivo di grande soddisfazione. Ha commentato Foti. Salerno lucida artista archiviato il primo weekend all'insegna del caos traffico quello che resta ai salernitani. È solo un profondo disagio in numerose zone del centro in base dai rifiuti. Molti preferiscono chiudersi in casa e chiedono al comune di effettuare una pulizia più accurata della città. Vediamo. Domenica infernale a Salerno con l'arrivo di 80 bus turistici e numerosi visitatori il primo fine settimana di lucida artista ha fatto registrare un record di presenze con oltre 4.000 persone arrivate da fuori ma anche notevoli disagi per gli automobilisti. Pedoni costretti a muoversi in fila indiana nei veicoli e strade completamente bloccate. code di almeno un'ora per salire sulla ruota panoramica. In molti preferiscono rimanere chiusi in casa altri lamentano la presenza di cumuli di rifiuti ad ogni angolo del centro. Io personalmente cerco di non uscire. Io penso che secondo me è ben organizzato se poi qualche turista voglio dire si comporta in modo indecente è normale che poi si vede spazzatura o quant'altro voglio dire. Io per la verità il sabato e la domenica e il venerdì mi tappo a casa quindi non vedo il traffico non vedo... Il fine settimana per muoversi è veramente molto disagiato per gli abitanti della città. Sono dei rifiuti ma non veramente in misura determinante. Il traffico è quello che era presumibile. Vi siete rassegnati? Eh beh sì. I rifiuti che comporta questa ondata di gente potrebbe essere pure sopperibili mettendo dei rifiuti in più dei cestini in più. Ma non mi interessano proprio la luce d'artista. è una cosa che si potrebbe fare a meno. È un disagio questo fatto dei turisti che lasciano una spazzatura però il comune dovrebbe secondo me rafforzare un po' di più la pulizia perché comunque è già un problema che abbiamo. Il lucido artista sicuramente mette in evidenza che ci sono delle persone veramente capaci insomma che hanno una creatività ed è anche giusto che venga espressa. La buona educazione quella si dovrebbe diffondere di più. a Benevento un'assemblea dei genitori per la mensa scolastica il problema è lo spazio dove i bimbi che portano il pasto da casa possano mangiare la ditta che gestisce il servizio per il comune infatti non vuole alimenti estrani nel refettorio vediamo dove devono mangiare i bimbi che portano il pasto da casa e non usufruiscono del servizio di mensa scolastica fornito dal comune il problema condiviso da molte realtà italiane arriva anche a Benevento contribuendo ad infiammare una situazione già molto tesa dopo le polemiche le inchieste e le proteste non c'è pace per il pranzo a scuola oggi pomeriggio a Palazzo Mosti si è tenuta una nuova assemblea dei genitori punto caldo dell'incontro la ricerca di uno spazio dove i bimbi possono mangiare la ditta che gestisce il servizio per il comune infatti non vuole alimenti estranei nel refettorio e avrebbe diramato un ordine di servizio ai propri dipendenti contenente il divieto di introdurre altri alimenti dove vengono consumati quelli della quadrelle 2001 il pasto da casa ormai è diventato un diritto oggi sembrerebbe che i bambini siano andati tutti quanti nei refettori a mangiare quindi per oggi è scampato pericolo però vogliamo sapere chi comanda cioè il sindaco i dirigenti la quadrelle i dirigenti perlomeno la nostra ha detto che fino a questo momento si mangia nel refettorio perché la Cassazione questo ha stabilito quindi adesso vogliamo un pochino di carezza da parte della ditta e del sindaco speriamo che si costituisca un unico comitato di genitori questo comitato dovrà incontrare l'amministrazione comunale per appunto tornare alla discussione sulla carta dei servizi e sulle regole che disciplinano il servizio di menza scolastica con l'aggiunta del diritto di portare il passo da casa scuole a rischio ad Avellino scattano le verifiche sui solai del liceo di Luca uno dei due attenzionati dalla procura intanto arriva il dissequestro della scuola elementare di Prato la Serra vediamo la provincia di Avellino stringe i tempi per garantire la sicurezza dei propri edifici scolastici ma ad oggi non avrebbe un piano alternativo per collocare gli studenti dei licei De Luca e Colletta se la procura così come fatto per la media cocchia decidesse di mettere i sigilli alle due scuole stamattina a Palazzo Caraccio lo incontro tra i tecnici della provincia ed esperti incaricati già a giugno per eseguire tutta una serie di verifiche sui solai del De Luca sono strutture costruite in epoche ormai che cominciano ad essere lontane intorno agli anni 60 con tecniche e conoscenze costruttive che chiaramente non potevano essere queste di oggi e con normative che non sono quelle di oggi per questo noi avevamo ritenuto necessario un approfondimento sono interventi già programmati ora suscitano maggior interesse dice Giacquinto perché si incrociano con l'attività della procura che ha acquisito gli atti sui due licei una volta terminate queste indagini saremo ben lieti di girarle alla magistratura perché il loro e il nostro interesse è garantire la sicurezza di studenti e insegnanti ha chiesto soltanto informazioni e documentazioni che riguardano diciamo questi due istituti scolastici ma ancora in modo molto diciamo generico e non specifico intanto stamattina cancelli aperti alla cocchia per i docenti per permettere loro di raccogliere il materiale didattico necessario per riprendere le lezioni nei plessi di Valle Rione Parco e Leonardo Da Vinci non prima però del 24 novembre è sempre a proposito di scuole a rischio nel pomeriggio è arrivata la notizia che a una settimana dai sigilli il gruppo di Avelino Fabrizio Ciccone su istanza dell'avvocato Teodoro Ripucci non ha convalidato il sequestro preventivo della scuola elementare Bergamino di Pratola Serra proprio oggi erano iniziati i doppi turni presso la scuola media ma a questo punto la situazione dovrebbe tornare alla normalità già dalle prossime ore incontro sul tema dell'alta velocità a Benevento cui ha partecipato anche l'amministratore delegato Maurizio Gentile l'opera secondo il sottosegretario del Basso De Caro porterà sviluppo nel Sannio e sarà concluso entro il 2026 vediamo l'alta velocità lo stato dell'arte della Napoli Bari Lecce Taranto e le ricadute che l'opera avrà sul territorio su questo si è basato il dibattito di questa mattina al Museo del Sannio al quale sono intervenuti il sottosegretario del Basso De Caro il delegato della regione Campania Costantino Boff e l'amministratore di RFI Maurizio Gentile l'opera sarà strategica per le aree interne secondo Del Basso De Caro e Gentile sarà conclusa entro il 2026 questo cambierà probabilmente molte delle nostre abitudini di vita ovviamente in meglio perché poter raggiungere Napoli in tempi assolutamente europei poter raggiungere Roma in un ore e un quarto significa per ciascuno di noi aprirsi a contatti più frequenti a relazioni umane sociali commerciali di ogni tipo molto più intense credo che abbiamo fatto dei passi avanti oltretutto in un clima di assoluta collaborazione con il territorio il territorio quest'opera la vuole la desidera la accetta e quindi è molto più semplice progredire rapidamente verso la conclusione del lavoro più scettico il sindaco di Benevento Clemente Mastella che ha ribadito le sue perplessità nell'ottica di un dualismo sanita-irpino non so se qua arriveranno grandi imprese non credo che siano per l'avvenire determinate grandi imprese a venire da noi questa controversia che esiste ancora tra la logistica Grotta Minarda ed eventualmente a Benevento è ovvio che auspichi che arrivi a Benevento e non vada certamente a Grotta Minarda Taglio del nastro per Salerno in particolare esposizione tematica sul centro storico impreziosita dagli scatti del compianto fotografo Ciro Fundarò e da installazioni multimediali grazie alla collaborazione tra la soprintendenza e il Dipartimento di Scienza dell'Università di Fisciano Giovanni Battista Lanzilli fino al 28 gennaio il Palazzo Ruggi d'Aragona Palazzo Fruscione San Pietro Accorte e il Museo della Scuola Medica ospiteranno l'iniziativa Salerno in particolare uno sguardo originale multidisciplinare sul centro storico della città per coniugare beni culturali e innovazione grazie alla sinergia tra la soprintendenza il Dipartimento di Scienza del Patrimonio Culturale il centro ICT dell'Università degli Studi di Salerno si potrà riscoprire il cuore della città con una serie di eventi di grande richiamo Salerno in particolare il titolo generale dell'evento che si articola su quattro sedi Palazzo Ruggi d'Aragona che forse la sede è più importante ma anche Palazzo Fruscione San Pietro Accorte il Museo Virtuale della Scuola Medica salernitana quindi quattro sedi una rete di attività di interventi una rete di eventi e soprattutto una rete di iniziative che il Dipartimento di Scienza del Patrimonio Culturale insieme all'ICT nell'ambito del distretto Data Bank ha assunto per rendere visibile la città per condividere con la città insieme con la sovrintendenza una serie di studi e ricerche che hanno poi avuto una ricaduta in termini di possibilità di fruzione da parte degli utenti fondamentale in questo senso anche il ripristino del Museo della Scuola Medica salernitana come ha sottolineato la sovrintendente Francesca Casule C'erano alcune apparecchiature che erano diciamo obsolete oppure comunque non perfettamente funzionanti malfunzionanti e questo diciamo faceva perdere un po' dell'idea complessiva dell'impianto degli apparati e quindi è stato ripristinato e il TG termina qui io vi ringrazio per l'attenzione ed ora vi lascio al TG Sport grazie 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 grazie